Ragazzi io non gioco più, sto spendendo perché ho fatto un regalo a papà, anzi aspetta che lo chiamo Papà! E quando viene? Dì mio Dello che c'è? Questo è per te, ti ho fatto un regalo Tu hai fatto un regalo a me Tieni Grazie Aprilo Non è che mi hai fatto uno scherzo? Papà non è uno scherzo Vabbè vediamo, apriamo, sicuro Dello che non è uno scherzo, vero? No! Odello è bellissimo, ma poi sono io questo? Sì bravo papà, sì tu! Ti ho fatto un modi mida, perché mida su Fortnite ha la skin che è tutta dorata, con le mani dorate In più ti ho messo i joystick e ti ho messo anche la maglietta del mio team di Fortnite Come sto? Sto bene? Che figata Anzi ragazzi, se volete acquistare anche voi questa maglietta di mio padre, basta che scrivete su Google Humble Cliccate la prima soluzione e vi mando sul sito del mio team di Fortnite Poi cliccate sulla sezione shop e trovate le magliette che ho fatto io per mio padre in limited edition Potete scegliere la vostra taglia e acquistarle Acquistatele tutti perché è la mia maglietta!